Il nome di questo personaggio è un omaggio a mio nonno materno che non ho conosciuto, che si chiamava Francesco Berardi, quindi in suo onore ho voluto metterlo in questa sceneggiatura. Ancora parliamo di sceneggiatura, non di film. Ho voluto registrare questo periodo particolare, storico, che stiamo vivendo. Ci sono state pandemie, guerre. Sembra che l'uomo invece di andare avanti, quindi di migliorare, stia tornando indietro, a differenza della tecnologia che invece sta prendendo il sopravvento. Cerchiamo di collegare le marche con la Sicilia, che è una terra che io personalmente amo moltissimo. Ci sono stati in vacanza, ma soprattutto amo la storia della Sicilia e soprattutto mi lega anche l'amicizia appunto con Antonio, che era un monte di Cinema 7. E sono ben felice di collaborare con lui a questo progetto, appunto il film Miopia, e ad altri progetti che invece poi, susseguentemente, verremo a realizzare qui, proprio in terra siciliana. Sicilia ha una grande tradizione attorale, sia uomini che donne. Però è anche un casting preventivo per quei film che abbiamo in progetto, 2024, che sono due film che vengono quasi integralmente girati in Sicilia, dove effettivamente poi il cast isiliano è la maggioranza. Per me è fondamentale. Io quando stringo delle collaborazioni con altre produzioni, ovviamente produzioni che già avevano degli impegni precedenti, nelle riprese magari di progetti fuori la regione Sicilia, come in questo caso che si genererà Miopia interamente nelle Marche a Pesaro, ho detto, bene, ormai mi sono trovato un prodotto confezionato, però cerchiamo dall'altro lato, quindi a parte ovviamente la valorizzazione del territorio, cerchiamo di valorizzare anche i talenti siciliani. Io vengo da questa terra, sono nato qui, sono cresciuto qui, ho vissuto qui, manco da dieci anni, ormai mi sono stabilito a Roma, e quindi per me è sempre importante e fondamentale valorizzare non solo il territorio, ma soprattutto questi giovani, che di giovani talenti ne abbiamo tanti.